Ciao a tutti ragazzi, questo è un video velocissimo per annunciarvi che questa sera ci guarderemo la partita Juventus Tottenham o ce l'ascolteremo per chi non può eccetera eccetera, io la guarderò su premium nel TS pubblico Luke4316.gamehosting.it Una volta entrati scaricate TeamSpeak 3 come ho detto l'altro giorno da Google o anche per telefono andate in connection, fate connect Luke4316.gamehosting.it Vedete vostro nickname, fate connect, entrate una volta entrati qua in ingresso pubblico scendete sotto nella stanza calcio dove siamo tutti qua per il momento se sentite rumori tipo tutti questi suoni, voci andate su self, sound pack e fate sound deactivated, non sentirete più questi rumori spammate amici e parenti, vi aspetto nel TeamSpeak prima delle 20.45 così guarderemo la partita poi tra il primo tempo e fine partita commenteremo tutti assieme, vedremo come è andata, come non è andata con i nostri commenti anglosassoni un bacione, un abbraccio, vi aspetto in TS subito forza ragazzi